Discesa ripida tra Via Salvati e Via De Gasperi è realizzata una scalinata, un vantaggio, dice il signor Maurizio che risiede nella zona e che aveva segnalato il problema dopo aver aiutato uno dei tanti anziani che popolano il quartiere e che per il quale quella salita era davvero difficile da dover affrontare. Un altro punto della città che affronta delle criticità è Via Redentore, zona molto transitata e che vede nello sparti traffico davanti alla fermata del bus cittadino un vero e proprio problema. Proprio in questo tratto dal numero 1 al numero 21 della Via Redentore ci sono tutte le salite scaperte attive che lavorano. Siamo molto arrabbiati, l'unico punto dove l'artigiano e il commerciante può lavorare, il comune non so chi ha preso questa decisione nello sparti traffico che se prima la persona, l'eventuale cliente aveva quel minuto di fermarsi per prendere un quartino di pane, un mazzo di verdura, va a ordinare una pizza o fa sé, non lo può fare più. Abbiamo visto scomparire sotto i nostri occhi tutti i clienti che noi avevamo. Pertanto ci stiamo ritrovando con delle spese senza nessun ingasso. Stiamo continuando ad essere aperte con molto coraggio aspettando le autorità che ci risolvano questo problema. Propongono soluzioni concrete i commercianti e chiedono tempi brevi per la realizzazione. Vorrebbero che si togliesse lo sparti traffico e vorrebbero vedere realizzate strisce blu con disco orario di 30 minuti. Arriva la replica dell'assessore al ramo. Io ho incontrato i commercianti di Santa Lucia, ho capito qual è la loro esigenza e la loro necessità. Ho ascoltato tutte le parti che sono coinvolte in questo problema, sia i commercianti che gli utenti che utilizzano normalmente il pullman e anche l'azienda che fa il servizio pubblico. Ho ascoltato tutte le parti, abbiamo capito quali sono le esigenze di tutti e ritengo che a breve metteremo in campo una soluzione che cercherà di accontentare tutti quanti. Circa la scalinata di Via Salvati dice. Qualche mese fa avevo incontrato dei cittadini, dei residenti di questa zona che mi avevano sollevato questa grande difficoltà. È una strada nata tanti decenni fa per caso, però da allora è diventata sempre più frequentata e sempre più utilizzata. È una strada a forte pendenza, non aveva delle aree di sicurezza per i pedoni, ma viene molto utilizzata anche perché ormai unisce due vie importanti, la Via Salvati con la via sottostante dove ci sono dei supermercati e delle attività commerciali. era importante trovare una soluzione anche qui per mettere in sicurezza i pedoni.